La filosofia della storia prende avvio da un certo tipo di lettura dell'ebraismo. Perché? Perché l'ebraismo ha nella sua storia religiosa e anche politica il tema dell'attesa messianica. Cioè l'ebraismo ha a un certo momento del proprio sviluppo proprio la profezia intrinsica per il quale Dio manderà il Messia e questo Messia farà alcune cose. Ora, l'arrivo del Messia è un qualche cosa che in qualche maniera cambia la storia del mondo. È destinata a farlo, l'umanità non può fare nulla per fermare il Messia, è una volontà di Dio. E alcuni ebrei si chiedono invece se non devono fare qualcosa per favorire o per manifestarsi pronti all'avvento del Messia. Saranno i rivoluzionari e gli zeloti nella fase finale della storia ebraica nel periodo che va dalla vita di Cristo sostanzialmente fino a massimo il 130, 135 dopo Cristo. Questo è quel periodo là. Ora, questa visione, se io la riporto alla storia nel suo complesso, quindi esco dalla promessa messianica ebraica, cosa mi dice? Mi dice che la storia ha un inizio, che corrisponde evidentemente con la creazione, ha un suo svolgimento ordinato fino all'arrivo del Messia. L'arrivo del Messia inizia una nuova fase della storia che terminerà con la parousia, con la manifestazione ultima, con l'Apocalisse, come raccontato nel libro dell'Apocalisse, che è la rivelazione. L'Apocalisse significa rivelazione. Il tema è, l'Apocalisse è un avvenimento temporale o metatemporale? È l'avvenimento che segna la fine dei tempi? È un avvenimento che si verifica nel mondo? Dopo l'Apocalisse cosa c'è? C'è la fine dell'umanità? C'è la fine della storia terrena? Oppure, dopo l'Apocalisse, c'è l'inizio di una terza era, o quarta era, a seconda della lettura, ancora nella vita terrena? Allora, la filosofia della storia ha in sé questo tipo di approccio. Cioè, la storia sta portando avanti un cammino razionale, un cammino, se vogliamo, di sviluppo della razionalità della storia stessa e quindi dell'umanità. Ora, questa è la dottrina cattolica? Sì e no. Sì e no. Cioè, la dottrina cattolica fa proprio l'attesa messianica ebraica. Sì, lo fa. Ma, con l'arrivo di Cristo, è come se si aprisse una nuova fase della storia che è già completa, ma non ancora. Mette insieme due opposti, cioè il fatto che da una parte la rivelazione è completa, quindi non c'è più nessuna attesa. È stato detto tutto, con Cristo è stato detto tutto. Lo Spirito Santo non ha da rivelare delle novità rispetto alla promessa, ma ha da rivelare ad ogni persona la pienezza della promessa. Lo Spirito Santo interviene come terza persona della Santissima Trinità per permettere ad ogni persona un incontro reale con Cristo, anche lì dove Cristo in carne evidentemente non è più presente, in quanto dopo la risurrezione è asceso al cielo. Quindi tutto il tempo che c'è fra la discesa dello Spirito Santo e l'Apocalisse è un tempo che è completo nella sua rivelazione, ma è un tempo necessario, se vogliamo, allo Spirito Santo per permettere ad ogni persona di essere incontrata dalla grazia. Questo è il tempo. Quindi non c'è un'attesa di cose nuove da conoscere, ma c'è un'attesa dell'umanità di conoscere le cose che sono state integralmente dette. Per questo è un già e non ancora il tempo completo. Quando questa cosa viene spostata a livello politico, cosa accade per esempio con Giacchino da Fiore? Accade a quel punto che l'interpretazione di qualcuno inizia a essere forse la rivelazione non è completa, forse lo Spirito Santo deve dire qualche cosa, forse a loro c'è un progresso spirituale. Accanto a questo progresso spirituale ci deve essere anche allora anche un progresso umano, perché non è che il progresso spirituale sia qualcosa di separato dall'essere umano. Cioè quando l'uomo ha un incontro con Dio questa cosa lo cambia, e questa cosa cambia la società, cambia il mondo, cambia la storia. Quindi c'è anche un progresso umano. Quindi la storia è destinata a un progresso, no? È destinata piano piano a progredire in altezza, a salire, a camminare, a fare un percorso ascetico di qualche natura, fino a raggiungere una pienezza da arrivare. Il che vuol dire che quelli che verranno dopo sono più vicini alla verità di quelli che c'erano prima. E questo cambia anche la qualità del... Non cambia la qualità, cambia il giudizio che l'uomo dà sulla qualità dell'umanità. Cioè gli uomini dopo sono migliori degli uomini prima. Ora, questo tipo di interpretazione, quindi un'interpretazione di origine religiosa, mettiamola così, secolarizzata, immanentizzata, politicizzata, diventa poi l'interpretazione progressista. Cioè il mito del progresso, che è un qualche cosa che sorgerà molto più avanti, è il mito secondo il quale c'è una crescita che non è soltanto scoperte tecnologiche, scientifiche o cose del genere, che è abbastanza indiscutibile, ma c'è una crescita anche della qualità umana. Cioè gli uomini in avanti nel tempo sono progressivamente diventati di una qualità migliore rispetto agli uomini di prima. Infatti, se noi consideriamo anche nella retorica tipica di persone che fanno proprio una visione progressista, cosa parlano? Di un tempo passato in cui appunto l'umanità era nel buio dell'ignoranza, erano tutti quanti gretti e pecorecci, erano tutti quanti così con la mente obnubilata dalle falsità della superstizione della religione e progressivamente il progresso, appunto, progressivamente il progresso ha liberato l'umanità da questo e ha permesso di tirar fuori quella che è la sua vocazione più profonda, che è una levatura superiore di qualche natura, ok? Questo poi è quello che diventa dal punto di vista politico. Ora, è in Agostino questo punto di partenza? Sì e no, sì e no. C'è in Agostino una certa filosofia della storia? Sì, c'è in Agostino una certa filosofia della storia, assolutamente sì. Ma c'è una visione addirittura progressista? Ecco, questo non direi. almeno dal mio punto di vista, questo non direi. Cioè, è chiaro che Agostino non può rifiutare il tema della rivelazione e quindi il tema della profezia e quant'altro. Però è anche vero che la speranza di Agostino non è una speranza che rimanda al futuro. Perché? Perché la città di Dio non è una città che verrà costruita un domani da una umanità migliore. Non è così. La città di Dio scusate la città di Dio è un qualche cosa di misticamente sempre presente in ogni azione virtuosa. Come la città dell'uomo è una città che è misticamente sempre presente in ogni azione viziosa. La città di Dio e la città dell'uomo convivono nella terra. La pienezza della città di Dio è soltanto nel regno dei cieli. Ma questa pienezza, diciamo, questo trionfo della città di Dio lo vedremo mai in terra? Beh, in Agostino questa cosa non c'è. Non ci sta un momento in cui dice a un certo momento poi lo Spirito Santo renderà questa cosa vera una volta per tutte e per tutti in terra. No, alla fine dei tempi è chiaro che è un discorso escatologico. Alla fine dei tempi, cioè quando sarà finita l'umanità, quando sarà finita la storia, a quel punto il regno di Dio sarà manifesto e quella è nella sua rappresentazione politica il regno di Dio, la città di Dio, la Girosaleme celeste, e gli possiamo trovare mille nomi possibili. Non è qui il punto. Il punto è che non c'è in Agostino un'attesa messianica. Quindi c'è una certa filosofia della storia, sì, ed è abbastanza innegabile. C'è un messianismo? No, no, non direi, non direi.